30 giugno 1908, sono le 7.17 quando un oggetto infuocato sfreccia nei cieli della Siberia. Subito dopo un fortissimo tremore sembra squassare tutto l'altopiano centrale. Tutto trema in maniera inverosimile, spaventosa. Cosa accadde esattamente a Tunguska? Questo l'argomento che cercheremo di indagare in questa nuova puntata di Frontiere Proibite. Benvenuti nel canale, benvenuti da Roberto Lapaglia. Prima di iniziare un invito ad iscrivervi, a lasciare i vostri commenti, i vostri like. Tunguska, mistero alieno o forse no? Cercheremo di scoprire insieme subito dopo la sigla. A tra poco. Gli osservatori di Mosca, Parigi, Londra e Washington registrarono l'evento. Una luce accecante vista a migliaia e migliaia di chilometri di distanza ed un boato assordante udito a più di 200 chilometri di distanza. L'unica cosa che mette tutti d'accordo è che qualcosa cadde dal cielo. Cadde devastando un'aria di oltre 2000 chilometri quadrati e provocando un forte vento radioattivo. La regione, per fortuna, era poco abitata e forse anche per questo le prime testimonianze vennero registrate ben 15 anni dopo, complice anche la situazione politica interna della Russia che in quel periodo era impegnata in ben altri fronti. I testimoni parlarono di un oggetto di forma sferica o cilindrica, di colore giallo o rosso e che non lasciava alcuna scia di fumo, caratteristiche quasi sempre riscontrate nelle meteoriti ferrose. I primi disturbi magnetici si avvertirono quasi subito, circa 5 o 6 minuti dopo l'esplosione, e furono i classici disturbi abbinabili alle conseguenze di esplosioni nucleari, registrati tra l'altro dall'osservatorio magnetico e meteorologico di Irkutsk. Le reazioni da parte della comunità scientifica non furono particolarmente eclatanti. La stampa locale parlò quasi subito della caduta di un grosso meteorite e l'evento venne ben presto dimenticato. Questa situazione si protrasse almeno fino al 1921, anno durante il quale l'Accademia delle Scienze di Mosca organizzò una spedizione alla ricerca del punto d'impatto. Lo spettacolo che si presentò ai membri della spedizione fu davvero raccapricciante. Dell'antica foresta che un tempo prosperava in quel luogo non rimaneva in pratica quasi nulla, soltanto devastazione ed alberi carbonizzati in un'area di circa 2000 km quadrati. I ricercatori non riscontrarono nessun cratere meteorico, ma notarono che gli alberi, anche se carbonizzati, erano ancora ritti, cosa che fece pensare che l'esplosione fosse avvenuta circa 6 o 7 km dal suolo. A capo della spedizione c'era Leonid Kulik, studioso e ricercatore molto conosciuto in quel periodo, proveniente da Pietroburgo. Kulik era convinto che, data la mancanza di un cratere meteorico, l'impatto era dovuto ad uno sciame di meteoriti. Questa soluzione non trovò però d'accordo gli altri suoi colleghi, anche perché non venne mai ritrovato nessun frammento dei presunti bolidi. La spedizione comunque interessò molto il mondo scientifico, tanto che a Kulik vennero affidate altre spedizioni di ricerca dal 1928 al 1939. In ogni caso le altre spedizioni, pur setacciando molto più a fondo la zona, non riuscirono a rintracciare nessun frammento meteorico. Kulik morì nel 1942 in un lager nazista. Tre anni dopo, il 6 agosto 1945 si comprenderà quale tremenda energia doveva essersi scatenata a Tunguska, quando il bombardiere B-29 Enola Gay sganciò il suo carico di morte su Hiroshima. Le aurore generate dall'esplosione, la distruzione radiale furono analogie che non sfuggirono agli studiosi, che collegarono i due venti sciogliendo il primo nodo, Tunguska come Hiroshima e Nagasaki. Diverse invece le ipotesi che riguardano l'origine dell'oggetto che si schiantò a Tunguska. Le teorie sono davvero tante, dal mini buco nero al frammento di antimateria all'astronave aliena. L'unica cosa certa è che il 30 giugno del 1908, nella tundra siberiana, avvenne qualcosa la cui spaventosa importanza venne compresa soltanto molti anni dopo, ovvero intorno alla fine del secondo conflitto mondiale. Nonostante oggi si tenda a considerare chiuso questo file, chiusa questa ricerca, le teorie continuano ancora ad emergere e molte di queste teorie sembrano abbastanza interessanti, teorie che si muovono e si sviluppano soprattutto all'interno della cerchia dei ricercatori del mistero. Ancora oggi infatti molti tendono a non credere all'impatto con un meteorito, comunque con un corpo celeste, anche se in effetti anche in questo caso si tratterebbe di un corpo di natura aliena, ovvero non appartenente alla nostra terra, al nostro pianeta. Molti ancora pensano all'impatto con un'astronave magari in avaria, oppure a qualcosa di addirittura molto diverso e molto più complesso, come vedremo tra poco. Secondo lo scrittore Alexander Kazanjev, ad esempio, autore del libro L'isola in fiamme, e romanzo dedicato proprio a Tunguska, l'impatto sarebbe avvenuto con un'astronave aliena in fase di atterraggio sulla Terra. La teoria di Kazanjev chiama in causa l'offensiva marziana, una ipotesi molto conosciuta negli ambienti ufologici underground. Degli alieni, dopo aver colonizzato Marte, si misero in viaggio per raggiungere la Terra, sfruttando un periodo favorevole per le opposizioni planetarie. In effetti, coincidenza che sia o meno, al momento del disastro, Marte, Venere e la Terra si trovavano proprio in opposizione. La teoria dell'opposizione planetaria portata avanti da Kazanjev, sfrutta come prova alcuni strani fenomeni registrati sulla superficie di Marte negli anni successivi. Si trattava di lampi di luce e segnali radio che gli astronomi osservarono senza trovare spiegazioni coerenti. Un fenomeno registrato tra il 1920 e il 1924. Ma non soltanto Kazanjev è convinto che quanto accaduto a Tunguska abbia a che fare con i marziani. Altro sostenitore di questa teoria è Valery Uvarov, un ricercatore che per anni ha studiato una regione non lontana da Tunguska, Uliuuyu, ovvero la Valle della Morte. Secondo molti ricercatori e molti viaggiatori che hanno esplorato quella zona, proprio in quel luogo sembra si trovino delle misteriose strutture metalliche, strutture metalliche che sembrano formare degli enormi calderoni. Uvarov è convinto che queste strane strutture furono costruite in tempi immemorabili dagli alieni e vennero costruite proprio per difendere la Terra da attacchi esterni. Sempre secondo Uvarov le misteriose costruzioni metalliche dovevano appunto servire per proteggere gli umani da una invasione extraterrestre, ma purtroppo queste stesse strutture esplodendo e collassando provocarono l'evento che sconvolse Tunguska. La risposta della scienza è comunque molto più semplice e si rifà in ogni caso alla famosa teoria del meteorite. Proprio la Siberia infatti, secondo gli scienziati, sarebbe un territorio nel quale cadono molto più di frequente questi oggetti celesti. La Siberia d'altra parte occupa quasi il 10% delle terre emerse e quindi statisticamente è molto probabile che venga appunto bersagliata da meteoriti. Sarebbe quindi soltanto una questione di statistica? Voi cosa ne pensate? E con questa domanda io passo a salutarvi e siamo giunti alla fine del nostro viaggio a Tunguska. Se vi è piaciuto questo video un invito ad iscrivervi al canale, a lasciare i vostri commenti, i vostri like. Frontiere Proibite prosegue comunque le sue ricerche e lo farà la settimana prossima con le solite puntate, quindi le puntate classiche più oltre frontiera come risposta alle vostre domande, alle vostre curiosità. Grazie per avermi fatto compagnia, un caro saluto a tutti voi, a presto, ciao. Grazie.